Se i suoi compici, anziché abbandonarlo sul ciglio della strada, lo avessero accompagnato in ospedale, Ivan Catalin, rumeno di 29 anni, forse sarebbe ancora vivo, anche se in gravi condizioni a causa delle ustioni. Il ragazzo invece è stato abbandonato al proprio destino la notte di giovedì scorso lungo la provinciale che collega San Paolo di Civitate con la borgata di Ripalta da tre suoi connazionali, tra cui suo cognato. La banda aveva appena rubato 150 metri di cavi in rame dalla linea Enel per un peso di 110 kg. I tre rumeni sono stati fermati dai carabinieri della compagnia di San Severo con le accuse di furto aggravato, interruzione di pubblico servizio e omissione di soccorso. In manette sono finiti tre cittadini dell'est di 24, 29 e 41 anni, quest'ultimo cognato della vittima. Ai tre, che hanno tutti i precedenti specifici, sono stati concessi i domiciliari. Catalin, hanno ricostruito gli investigatori, è morto folgorato mentre cercava di tranciare i cavi di rame su un pallo dell'energia elettrica. I militari hanno iniziato le indagini partendo dalle telefonate al 118 effettuate per segnalare una persona esanime sull'asfalto, a un centinaio di metri dal luogo del furto. Gli investigatori hanno scoperto che a fare le chiamate era stata la sorella della vittima, a sua volta allertata dai complici del ragazzo. A quel punto i carabinieri hanno rintracciato i tre rumeni, bloccandoli poco prima della fuga nel paese d'origine. Nelle abitazioni dei tre arrestati, i militari hanno recuperato il materiale rubato e gli attrezzi utilizzati per tagliare i cavi.